Tornare qua dopo 17 anni è un sentimento. La Juve l'ha chiamato e lui ha risposto. E adesso che arriva la pressione dei due tre. Lo più importante è sempre plantare una semiglia perché dopo quando smetti il ricordo più bello che si ricordano che te sei stata una brava persona. Come era in campo? Paolo! Lui è uno dove è nero e bianco. Paolo, per dieci anni è stato lo sfogliatore.